Questa sera siamo orgogliosi e molto emozionati perché abbiamo pensato di ridare dignità e luce a quell'ospedale che non solo l'abbiamo creato ma è l'ospedale stesso che ha creato un gruppo di medici che a distanza di tanti anni hanno pensato di rivedersi è un qualcosa di veramente straordinario e si fa tutto all'insegna di quell'ospedale di montagna che ha trovato uno splendore straordinario in passato e che ci auguriamo anche attraverso queste condizioni emblematiche che possa rivivere ancora un gruppo di medici affiatati un gruppo di medici che ancora dimostra di volersi bene e forse questo è stato lo spirito giusto di un successo che in passato ha visto tutto noi tutti noi protagonisti di una storia intensa viva vivace e brillante grazie a tutti